Musica Telespettatori di Telequattro, benvenuti a un altro appuntamento con Trieste in diretta che si protrarrà fino alle 19.23 circa perché c'è anche l'appendice rappresentata da Studio Telequattro che vedrà assieme a noi Stefania Seculini. Nella seconda parte discuteremo con il presidente del Conservatorio Tartini, l'avvocato Lorenzo Capaldo, quindi discuteremo di una eccellenza della nostra città, di un'altra eccellenza della nostra città discutiamo nella prima parte del nostro programma assieme al professor Sandro Scandolo che è responsabile dei programmi scientifici del Centro di Fisica Teorica Abdur Salam. Grazie professore per essere tornato a trovarci. Si diceva l'ICTP, il Tartini per altre, in un altro campo, ma Sissa, OGS, l'ICGB, non vorrei dimenticare, non vorrei dimenticare, l'università, insomma sono delle piccole gemme nella nostra città che sono, forse sono, vediamo se riesco a, forse sono riconosciute ma non conosciutissime quantomeno negli ambiti di lavoro probabilmente. Sì, paradossalmente soprattutto nel nostro caso che siamo un'organizzazione internazionale siamo quasi più conosciuti al di là delle Alpi di quanto lo siamo qua a Trieste o comunque in ambito nazionale, sì, ma sono indubbiamente delle eccellenze, diciamo Trieste è una città, è forse la città della scienza per eccellenza in Italia. L'ICTP nasce nel, più di 50 anni fa, no? Nel 64, nel 1964. All'età mia proprio, evidenti. Allora vabbè, che cosa significava a quell'epoca far nascere una realtà come i CTP? Perché, insomma, c'è sempre la necessità, secondo me, di dare l'idea del periodo storico in cui le cose nascono, no? Assolutamente, sì, quello è un periodo ovviamente molto significativo a livello, insomma, storico, anche politico, ovviamente. Era anche un momento molto importante per la scienza perché si usciva da una guerra mondiale in cui i fisici sono stati accusati di avere costruito una bomba e questo, diciamo, ha creato, diciamo, una forte sentimento proprio all'interno della comunità scientifica di far capire al mondo da una parte che era stato fatto un errore e di cui ci si prendeva coscienza, dall'altro che queste scoperte che in realtà stavano dietro alla bomba atomica, che era in realtà la fisica nucleare, avevano delle applicazioni importantissime e importanti per l'umanità. Anche perché l'aggettivo nucleare, mi perdoni se la disolvo, viene applicato, per esempio, anche in medicina. Certo, assolutamente. In quegli anni nasceva, per esempio, a Vienna la grande agenzia per energia atomica che si occupava, il cui motto era Atomi per la Pace. Quindi trovare delle applicazioni della fisica nucleare in ambito civile che tutt'oggi, diciamo, usiamo e forse nemmeno rendendoci ne conto, come quando andiamo ad un ospedale a farci una radio. Peraltro in quegli anni, voglio dire, anche la posizione geografica di Trieste significa qualcosa anche adesso, però insomma, in quegli anni, voglio dire, la cortina di ferro era veramente subito alle nostre spalle. Esatto, ed è stato quello il motivo che ha essenzialmente portato il Centro Internazionale di Fisica Teorica a Trieste. C'è stata, diciamo, nel momento in cui è stato deciso di creare un centro come questo, c'è stata, diciamo, una richiesta a tutti i vari istituti mondiali per ospitarlo e tutte le varie, diciamo, città, da Copenhagen a Vienna, New York, sono candidate, Trieste si è anche candidata e ha fatto, ha messo sul tavolo l'offerta più interessante, l'offerta non solo in termini economici, ma anche, appunto, come diceva lei, in termini, come dire, politici, nel senso che posizionare un centro come il Centro Internazionale di Fisica Teorica qui a Trieste in quel momento era un segnale, diciamo, che si poteva creare un ponte di comunicazione tra gli scienziati che appartenevano a due blocchi. Si ricorda, professore, chi ebbe la lungimiranza di scegliere Trieste? Diciamo, la persona che più ha contribuito a questo sforzo è stato chiaramente Paolo Budinic, che penso, insomma, tutti i triestini conoscano. Paolo Budinic è riuscito in questo sforzo, diciamo, ciclopico di convincere le autorità politiche, ma tutte le autorità civili, la Cassa di Risparmio, così via, a mettere assieme le risorse che poi hanno reso possibile l'assegnazione del centro a Trieste. Io non mi ricordo quanto tempo sia passato dalla scomparsa di Budinic, eccetera, credo saranno 5-6 anni, credo. Forse anche meno, due o tre anni. Ah, meno. Sì, sì, tre anni. Quindi allora non c'è ancora niente, però insomma io spero che quando la commissione toponomastica potrà farlo deciderà di dedicare qualche cosa, insomma. Io sono sempre dell'idea che si debba ricordare l'esempio di determinate persone in maniera piuttosto tangibile, insomma. La vocazione, questo giova a ricordarlo, no? La vocazione del centro è proprio quella di essere internazionale, no? Esatto. E fondamentalmente di aprirsi. Esatto, questo diciamo è stato quello che Abdus Salam ha portato, diciamo. Lui, scienziato cresciuto in quello che era, diciamo, a quel tempo una colonia britannica che adesso è il Pakistan, riesce, portato avanti anche da insegnanti molto, 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 diciamo, lungimiranti, ad arrivare fino in Inghilterra, a studiare, a diventare il fisico probabilmente più importante del secolo scorso, addirittura ha portato al premio Nobel, ma prima ancora di prendere il premio Nobel, decide che è il momento di creare un centro in cui tutti gli scienziati come lui, lui si intendeva fortunato, che venivano da Paesi in via di sviluppo, potessero avere questa possibilità di avere un posto dove incontrarsi, scambiare opinioni, discutere di scienza, e convince appunto le varie agenzie internazionali a creare il Centro Internazionale di Fisica Teorica, che poi alla fine è approdato. Tanto è vero che, ecco, ricordiamo, forse lei vi ha accennato prima, che il Centro di Fisica Teorica è sotto leggi da dell'ONU. Esatto, siamo un istituto dell'UNESCO. Ah, dell'UNESCO, che è la costola. Esatto, quindi noi stiamo, diciamo, io stesso sono uno staff, diciamo, del personale dell'UNESCO. Tra l'altro mi sono ricordato, mi sono ricordato adesso, non vorrei sbagliare, perché anch'io delle volte me, che lavorò al Centro di Fisica Teorica con Budini c'è anche Davidiz, che ci raccontò la nascita del Centro, eccetera, quindi sì, mi è venuto in mente adesso. Che cosa significa? Questa è una domanda che faccio spesso quando ho la possibilità, perché mi piace in genere sentire le risposte, so già le risposte che sento, però mi piace sentirla di volta in volta, no? Quando si incontrano scienziati che provengono da paesi diversi e che quindi, voglio dire, si sono formati presso università diverse, eccetera, no? Che cosa danno e che cosa prendono, insomma? Perché immagino poi che un po' ci si studi, poi dopo subito si lavora assieme, insomma. Però credo che le differenze che comunque esistono siano poi ciò su cui bisogna lavorare. Assolutamente, sì, diciamo, si parte anche dal presupposto che la scienza di per sé è uno sforzo che è ormai diventato internazionale, nel senso che quando uno si specializza in un campo è spesso, diciamo, si trova a dover collaborare con, o comunque a dover interagire con altri scienziati che spesso stanno in altri continenti. Questa è una cosa naturale per la scienza. Quindi per questo è importante dare la possibilità a scienziati che stanno in paesi di sviluppo di avere un posto in cui possono scambiare, diciamo, opinioni su argomenti anche molto specifici, perché sono quelli della loro ricerca, con gli esperti internazionali di quel campo che magari non si trovano nel loro continente, per dire in Asia o in Africa, in queste regioni del mondo. Quindi questa è una cosa importantissima. L'altro aspetto, secondo me, molto importante di questa, diciamo, internazionalità del centro è il fatto che la scienza è pur sempre un linguaggio unificante. Quindi, diciamo, noi spesso abbiamo difficoltà anche a discutere, a dialogare con altre realtà, con altre nazioni, eccetera, perché ci dividono cose, diciamo, più ideologie o religioni o lingue, eccetera. Come diceva Salam, davanti a un'equazione matematica siamo tutti d'accordo. Difatti. E si percepisce, per esempio, credo di sì, e come eventualmente quando uno scienziato arriva, per esempio, da un paese dove gli investimenti nel campo della scienza sono maggiori, da che cosa lo si percepisce? Beh, diciamo, è chiaro che ci sono nazioni che investono pesantemente nella scienza, ovviamente l'America del Nord, l'Europa, ovviamente, ultimamente però ci sono nazioni come la Cina e l'India che stanno emergendo dal punto di vista degli investimenti nel campo della ricerca e paradossalmente sono nazioni che 30 anni fa, 40 anni fa, ricevevano invece il nostro supporto, il nostro aiuto, perché erano invece delle nazioni molto povere, insomma. Quindi il mondo anche cambia da questo punto di vista. È anche un bene, tra l'altro. È anche un bene, ovviamente. È la verità. Ed è importante appunto dare la possibilità a scienziati che non hanno questi strumenti, queste risorse, di poter poi invece accedere a un mondo che queste risorse ce le ha e spesso le collaborazioni portano anche a degli veri scambi, cioè le persone poi viaggiano, visitano laboratori in paesi sviluppati e con quello, diciamo, accrescono senza avere, diciamo, la necessità poi di avere le proprie risorse nel loro paese. Ma voglio dire, è anche vero che ormai qualunque progetto di ricerca, almeno, quantomeno, quelli che alcuni suoi colleghi sono venuti a presentare da noi, ormai nessun progetto di ricerca importante, come posso dire, è appannaggio di una sola nazione o di una sola realtà, no? Non credo, non credo. Ormai la collaborazione... Ormai la scienza avanzata, la collaborazione... Certo, ogni nazione poi stabilisce le proprie priorità in termini di ricerca, ovviamente. Ci sono, per esempio, alcuni paesi che investono molto nella ricerca nel campo nucleare perché è la loro principale sorgente di energia, stiamo parlando della Cina, per esempio. Ci sono paesi come i paesi africani che hanno molto interesse, al contrario, a investire in energie rinnovabili perché sono baciati dal sole e quindi hanno, diciamo, per loro il solare è una priorità. Quindi è chiaro che istituti di ricerca, così come governi, in certe nazioni, in certi posti, hanno ovviamente delle priorità diverse. E questo, diciamo, per noi è una sfida perché dobbiamo anche cercare di, come dire, soddisfare richieste che vengono anche da campi diversi. C'è una cosa che ho incominciato, è un terreno che ho incominciato ad esplorare tempo fa e adesso devo cercare un po' anche di, come dire, di preparare le domande in maniera piuttosto intelligente e diretta. Però vediamo se forse facciamo così una prova in diretta, no? Immagino che voi abbiate a che fare anche con giovani. Sì, principalmente giovani. Quanti sono quelli che, voglio dire, hanno già bene in testa che se scelgono determinate facoltà o determinati campi di professione dovranno comunque lasciare il loro paese? Forse è un problema che magari a noi piace affrontare ma che in realtà non è così sentito. Allora, nel campo della scienza avanzata a un certo punto della propria vita, della propria carriera, lasciare il proprio paese è una necessità perché, diciamo appunto, come dicevo prima, se uno vuole approfondire l'argomento di ricerca su cui lavora, la collaborazione internazionale è fondamentale. Quindi anche nei paesi, diciamo... La speranza è che poi questi scienziati vadano, diciamo, a espandere le loro conoscenze, le loro capacità e poi tornino, questa è la nostra speranza vera come centro di fisica, ritornino poi nei loro paesi per mettere in pratica quello che hanno imparato e quello che hanno, diciamo, le conoscenze che hanno... Questo, diciamo, è forse una delle sfide più grosse per noi, cioè come convincere delle persone brillanti, giovani, intelligenti, che magari hanno la possibilità di avere una carriera in Stati Uniti, così come in Europa, così come in Italia, alcuni, a un certo punto a tornare... Perché altrimenti, sa, contribuiremo a quello che si chiama la fuga dei cervelli. Dei cervelli, sì, certo. Dei loro paesi, e questo non è certo qualcosa a cui noi aspiriamo. Senta, professore, come seguite poi, dopo, eventualmente, le persone che ritornano nei loro paesi? Allora, abbiamo vari programmi, forse il più significativo è il programma Associati. Il programma Associati è un programma in cui noi invitiamo gli scienziati più brillanti, però, diciamo, già scienziati, come dire... Capito, formati. Formati, e sulla base, se li selezioniamo ovviamente, sulla base delle loro capacità scientifiche, i più bravi li invitiamo a Trieste per dei periodi, cioè, tenendo, in modo tale che loro tengano la loro posizione di professori, di ricercatori nei loro paesi, ma li invitiamo. Salam chiamava questo programma un modo per ricaricare le batterie. Capito. Uno scienziato torna nel suo paese, dove le condizioni di lavoro spesso sono abbastanza difficili, viene qui per qualche mese all'anno e ha la possibilità di, diciamo, di ricaricare le batterie, di ristribilire i contatti, e poi così torna nel suo paese e riesce, diciamo, a avere questo contatto permanente con un'istituzione come la nostra, pur rimanendo però permanentemente nel suo paese. Anche il CTP ha sposato, diciamo così, anche il centro di fisica teorica, ha sposato questa, come si potrebbe dire, non è una moda, perché il termine è brutto, ma diciamo questa, chiamiamola tendenza, della scienza ad uscire dal proprio ambito e a, come dire, entrare in città. Voi sarete, come sempre, sarete a Nex, avete anche, c'è stata Maker Faire giorni fa, ma è positivo, è positivo anche questo, no? Cioè, ormai praticamente non è tanto da sottolineare paradossalmente positivo, è un dato di fatto, insomma. Certo, è un dato di fatto che ovviamente la ricerca deve in qualche modo comunicare quello che sta facendo la società e questo è importantissimo. Di nuovo, questo per noi che facciamo fisica teorica non è facile. Perché quando noi invitiamo qualcuno a visitarci a Miramare, abbiamo delle lavagne, abbiamo dei tavoli, delle penne, delle matite e quindi non è come, per dire, visitare un sincrotrone o come visitare un laboratorio. Però, diciamo, a quello compensiamo con un campus bellissimo, peraltro, che appunto in cui ci piace invitare la gente e anche con quell'iniziativa come quella che menzionava prima della Maker Faire in cui in qualche modo si mette in mostra l'ingegno, il fatto, diciamo, che noi abbiamo della materia grigia che dovremo far funzionare il meglio possibile e la Maker Faire è in qualche modo un modo per far capire anche a, diciamo, bambini, per esempio, o comunque persone che non avrebbero normalmente la possibilità di avvicinarsi alla scienza, di poter farlo in modo un po' giocoso. Però, mi perdoni, mi viene da ridere perché tra poco questa sera andrò al cinema con il mio compagno di classe delle superiori col quale ogni tanto ci ricordiamo delle interrogazioni di fisica che per chi faceva il classico poteva essere un po' così. Ma in ogni caso, c'è però un'attrazione che la fisica esercita nei confronti dei ragazzi? Perché io conosco parecchie persone che poi, come si dice, hanno fatto fisica e magari tanti anche provenienti dai licei classici perché poi non c'è tutta questa... Lo chiede la persona sbagliata, visto che io sono diventato fisico io stesso, ovviamente. Però, sì, questa è una cosa che si sta... Tra l'altro sto notando che le vocazioni per fare fisica stanno, diciamo, il numero di studenti, per esempio, sta aumentando per qualche motivo. I fisici, così come i matematici, anche poi in prospettiva di una carriera, di un lavoro, vengono sempre più visti come delle persone che formano una capacità di risolvere i problemi, prima ancora di avere delle nozioni acquisite. E questo, dal punto di vista di un datore di lavoro, è una cosa molto, molto importante, soprattutto al giorno d'oggi, in cui le richieste da parte del datore di lavoro diventano sempre, diciamo, evolvono in modo continuo. C'è un dato, per esempio, che non so, molti telespettatori credo non ne siano a conoscenza, come non ero a conoscenza io, per esempio, non so quanti, non saranno tantissimi, però ci sono dei fisici che lavorano anche all'ospedale nostro, su di Catinara, perché c'è bisogno anche per quel che riguarda i macchinari, per quel che riguarda... Insomma, vuol dire, è un... detto da me, che poi ho fatto lettere, è un campo estremamente vario, non è solo la lavagna... E poi ovviamente c'è sempre questo, diciamo, desiderio di capire qual è, diciamo, i fondamenti ultimi dell'universo, di quello che siamo... Che sposa molto la filosofia. Esattamente, insomma, quindi io penso che chi decide di far fisica teorica in realtà è sotto sotto un po' un filosofo. È sotto sotto un filosofo. Sì, sì, senza dubbio. Tra l'altro, mi diceva il professor Scandolo, prima di incominciare, che ESOF 2020, per certi aspetti, proprio, come dire, amplifica le stesse caratteristiche del centro di fisica, no? Certo, il motto stesso di ESOF 2020, che è libertà per la scienza, scienza per la libertà, no? Freedom for science, science for freedom, è qualcosa che in realtà, il cui germe, è stato piantato probabilmente dalle CTP 50 anni fa. Cioè questo fatto che la scienza, da una parte, deve essere libera di cercare i propri, come dire, i propri indirizzi in modo completamente libero, anche perché altrimenti le scoperte non succedono, se no non viene lasciato libero di muoversi. D'altra parte, è una scienza che aiuta a, diciamo, essere più liberi. Grazie, diciamo, alle scoperte uno sviluppa il senso critico e quindi è, di per sé, diventa una persona più libera. Così come noi specificatamente all'ICTP aiutiamo i paesi in via di sviluppo ad essere più liberi, perché estillando delle capacità di alto livello educative, diciamo a livello di fisica, di matematica, così come di ingegneria, di medicina, eccetera, eccetera, contribuiamo, speriamo a rendere questo mondo un mondo un pochino più libero. Il mio professore di storia dell'arte, delle superiori, diceva più si conosce, più si è liberi, più si è liberi, più si è felici. Assolutamente. Ed è vero. Adesso qualcuno dirà che io cito sempre il mio periodo scolastico, me ne rendo conto, probabilmente ci sarà anche una ragione se uno... C'è anche un aspetto pratico direi, perché diciamo, adesso al di là della retorica di aiutiamoli a casa loro, che è una cosa di cui si parla molto e non voglio entrare in questo, però è chiaro che se noi riuscissimo a creare delle generazioni di ingegneri, di medici, di economisti, di professori universitari in questi paesi, poi l'intera società ne beneficerebbe e i flussi migratori secondo me non avrebbero le ragioni che hanno. Ho letto tra l'altro, lo dico, di un abominio nella televisione pubblica o comunque nella televisione polacca, hanno fatto un reality che si intitola Aiutiamoli a casa loro, dove alcune persone vengono, insomma praticamente fanno la, non so come, la strada dei profughi per raggiungerli. Io non so, credo che siamo a dei livelli veramente abbastanza impressionanti, per dire la verità. Comunque, c'è un altro dato che riguarda, le tocca questa domanda che ha toccato tutti i suoi colleghi quando sono venuti qua, l'abbiamo anche detta per certi aspetti, perché Trieste è la città della scienza, la città anche della conoscenza se vogliamo, però rispetto ad altre città come per esempio Torino o Bologna, le istituzioni universitarie o scientifiche stanno in periferia, non stanno nel centro. Non ho mai capito se questo poi è soltanto un pretesto mio per fare una domanda, oppure se sotto certi aspetti è o era un problema anche sentito dall'istituzione. No, lo è, lo è un problema molto serio, particolare noi come centro di fisica che avevamo vicini la sissa, eravamo sì fuori dalla città, ma avevamo la sissa accanto fino a una decina di anni fa, adesso che la sissa si è spostata al campus dell'Obelisco, lo sentiamo come un forte problema, perché abbiamo le collaborazioni che si erano instaurate grazie a questa vicinanza fisica, erano importantissime. Questo ovviamente è un problema serio, io spero che con il recupero di Portovecchio, con il fatto che ci sarà in Portovecchio, grazie a ESOF, diciamo un fulcro, ancorché diciamo limitato la divulgazione, perché si parla ovviamente di un science center, eccetera, aiuti un pochino a diminuire questa forza centripeta, centrifuga, e quindi in qualche modo ci aiuti un po' a collaborare un po' di più, a farsi anche che siano le istituzioni scientifiche siano più visibili, perché certamente il fatto che siamo così lontane dal centro della città non aiuta. Next in questo caso è quella manifestazione dove in un weekend lungo, diciamo così, le realtà scientifiche e le istituzioni hanno proprio la possibilità di farsi vedere ancora di più. Certo, certo, il Next diciamo è addirittura prima ancora di Next, la notte dei ricercatori, ormai è una manifestazione che in qualche modo appunto è servita tantissimo per mettere un po' in, fare vedere alla città cosa succede. È chiaro che una cosa come ESOF è una cosa di molto più grande respiro, è anche diciamo molto al di là di quelli che sono. Però è anche vero che iniziative come Next e come anche altre, magari un'altra, ma più piccole, sono ormai parte integrante della... scansionano anche, se così si può dire, la stessa vita della città, cioè si sa che l'ultimo weekend di settembre c'è Next, si sa che ci sono appunto questi appuntamenti. che in genere quando si ragiona così significa che gli appuntamenti sono imprescindibili e che hanno successo. Assolutamente, sì. È anche un'occasione molto bella proprio per fare conoscere la città i ricercatori, è anche molto centrata su in qualche modo sulle persone che lavorano, legato alla notte dei ricercatori in qualche modo. Quindi questo è un aspetto molto bello in qualche modo, perché spesso, come si diceva prima, la scienza viene percepita come qualcosa che succede dentro le torri d'avorio, no? Dentro in posti scuri che... Invece far vedere che dietro la scienza ci sono delle persone, delle persone come, insomma, uguali a tutte le altre che si incontrano per la strada, secondo me ha un significato molto forte. Chiudo con una domanda un po' banale, forse semplicemente più banale delle altre, ma adesso non mi ricordo come si chiama quella serie televisiva dove ci sono gli scienziati che sembrano vivere in un loro iperuraneo, eccetera, distratto. Cioè, questo stereotipo appunto dello scienziato distratto, eccetera, vale ancora o è proprio anche qua un espediente? Diciamo, avrei molti aneddoti da raccontare su questo. Però, secondo me, diciamo, gli scienziati alla fine dei conti sono delle persone come tutte le altre. Quindi, insomma, hanno famiglia spesso, hanno figli, hanno, insomma, sono... Ed è questo importante, perché la gente poi non lo percepisce questo e pensa... Sì, appunto, sembra che sia... Parte il distacco che la gente ha nei confronti della scienza, che è un fatto reale, e secondo me è anche dovuto a questa, diciamo, distanza, questa distanza barriera che si crea rispetto tra il ricercatore e la gente. Però è anche vero che ultimamente anche nel nostro paese esiste una generazione di ricercatori, una generazione di scienziati che, come posso dire, volentieri parla del proprio lavoro e bene, e lo comunica in maniera ottima, soprattutto rispetto a quando, rispetto a una ventina, una trentina di anni fa. Cioè, e comunicare, devo dire, anche nella mia esperienza di ricercatore, comunicare quello che uno fa come ricerca non è facile, comunicarlo a livello giusto per l'audience che si ha davanti, insomma. Quindi questa è una cosa su cui i ricercatori, mi sembra, stiano lavorando in questi ultimi anni e spero, insomma, con qualche risultato. Professore, grazie per essere stato con noi. Il professor Scandolo è responsabile dei programmi scientifici del Centro di Fisica Teorica. Grazie a tante e buon lavoro. Dopo la pubblicità, cambiamo argomento. Come annunciato, parleremo del Conservatorio Tartini. Allora, la seconda parte di Trieste, di Trieste in diretta, siamo in compagnia dell'Avvocato Lorenzo Capaldo, che è il Presidente del Conservatorio Tartini. In questi pochi minuti che abbiamo avuto tra un ospite e l'altro, ho chiesto all'Avvocato Capaldo, c'è qualcosa di cui parlare ed ha tirato giù una sfilza di appuntamenti. Sì, infatti mi sono preso anche un piccolo pro memoria, perché sono molti, in effetti. Ma diciamo, allora, le faccio questa domanda che può... Secondo me, al di là di quello che molti dicono, la scuola non va in vacanza, nel senso che le istituzioni, appunto, scuola, università, quando anche chiudono, in realtà, insomma, c'è gente che lavora, quindi, insomma, la scuola non va in vacanza. A maggior ragione non va in vacanza un'istituzione come la vostra, perché se da un lato posso immaginare che le lezioni si fermino per un determinato periodo, voglio dire, poi c'è tutto il macchinario che deve essere un po' oleato. Assolutamente, no, ma in effetti poi, oltre all'attività accademica tradizionale, abbiamo tutta una serie di impegni internazionali che poi sono volti a consentire agli studenti di esibirsi, di acquisire ulteriori esperienze, quindi, senza considerare poi che a breve cominceranno gli esami di ammissione al conservatorio, per cui c'è tutta l'attività amministrativa che prosegue, infatti, diciamo che non chiudiamo mai. Perché poi c'è anche questo, ecco, io mi sembra che una volta l'ho chiesi forse alla professoressa Florita, adesso non so a chi del corpo insegnante, perché un conto è appunto insegnare la teoria, un conto è appunto insegnare la tecnica, eccetera. C'è poi lo stare in scena, che è l'altro elemento che è insito, insomma così, nella preparazione, nella creazione, diciamo così, di un musicista, e quello là lo insegni solo facendo in modo che questi ragazzi vadano in scena, non c'è altro... Beh, in effetti la musica non ha senso se è solo autoreferenziale, no? Quindi un artista, ma questo vale un po' a tutte le forme dell'arte, deve esibire, deve rendere una performance, insomma. Ricordo, peraltro, che oltre all'esibizione tradizionale, ci sono altre modalità di approfondimento del settore musicale, in senso ampio. Ecco, recentemente è andata in onda la seconda edizione sulla nostra radio regionale, emittente regionale Rai Free di Venezia Giulia, il concerto che vorrei, che ha consentito, grazie al professor Tosolini e alla redazione di Rai 3, ha consentito a degli studenti del conservatorio di accedere alle teche Rai, a quel serbatoio di tesori immenso, di selezionare dei pezzi, dei brani, di creare quindi un percorso di puntata in puntata, proprio un progetto musicale che ha consentito agli studenti, anzitutto di, pensiamo che si tratta sempre di nativi digitali ormai, no? di prendere contatto con qualcosa di tecnologicamente sicuramente molto arretrato e tuttavia molto suggestivo, anche per le sonorità diverse, eccetera. E poi di meglio conoscere alcuni giganti del passato che sono registrati in queste teche e di presentarli, di fare un filo conduttore, di una missione molto gradevole che comunque si trova in podcast adesso. Allora, da quale appuntamento incominciavo? Ma io comincerei, sì, col 21 di settembre, a Pordenone Legge. Ecco, questo è un evento veramente significativo. Mi perdoni, questo devo dirlo, io ho i parenti di Pordenone. Beh, bisogna fare i complimenti a Pordenone. Pordenone è ricca, Pordenone fa questo, Pordenone fa questo, è vero, è vero. È una città molto ricca, devo dire, dal punto di vista culturale. Infatti nell'ambito di questa Kermess ci sarà la presentazione, per la verità l'abbiamo già anticipata a Novel Conservatorio nel mese di giugno, di un volume dedicato a Hegel e Beethoven. Questo volume racchiude, curato dalla nostra professoressa Letizia Michelon, racchiude degli studi che in qualche modo cercano di rispondere a quell'interrogativo che era stato lanciato da Adorno, grande musicologo, filosofo della musica e via dicendo, circa il mistero che lega le relazioni da questi due giganti, nella musica e della filosofia. Perché pur nati nello stesso anno, nel 1770, non ebbero mai a incontrarsi, non c'è prova, non c'è evidenza storica che si conobbero e che ebbero uno scambio intellettuale. E tuttavia le suggestioni, le assonanze sono forti. Questo è un libro che è stato pubblicato dall'Università di Trieste e anche questo segna un aspetto di grande collaborazione tra il Conservatorio e l'Università, tant'è vero che abbiamo concluso una convenzione per cui le migliori tesi di laurea del Tardini potranno essere pubblicate sempre dall'EUT. La curatrice è la nostra professoressa Michielon, sono molti, numerosi i professori che hanno dedicato i loro studi. Cito il professor Martinelli dell'Università, con il quale abbiamo ormai un rapporto lunghissimo di collaborazione e stima reciproca. Ecco, è importante questo perché il Conservatorio non si limita soltanto al pur difficile compito di insegnare e trasmettere competenze in ambito musicale, ma opera una ricerca scientifica, musicologica, filosofica e questo appunto non è da tutti i conservatori. Quindi complimenti alla professoressa Michielon che ha portato avanti questo progetto. E questo è uno. Poi ci sarà una trasferta a Pechino nell'ambito di questi rapporti internazionali che abbiamo intrattenuto non solo con la Cina, ma nella rete GML, della Global Music Education League e dal 23 al 28 di settembre saremo al tavolo con i 40 conservatori più prestigiosi del mondo e questo ci fa piacere. Rinforzeremo le relazioni. In particolar modo stiamo studiando anche dei titoli congiunti con la Cina e abbiamo già nel mese di maggio avuto ospiti al presidente Wang Li Wang e la sua delegazione e abbiamo già stipulato i primi accordi, manderemo una nostra delegazione di studenti, a loro volta verranno dei loro studenti, ma avremo scambi anche di insegnanti e poi ovviamente dovremmo interloquire con le nostre autorità ministeriali per riuscire anche a dare una cornice normativa. Però è vero che l'Oriente, adesso Cina, Giappone, guardano alle istituzioni culturali italiane e musicali con enorme interesse perché sappiamo che anche il Teatro Verdi ha degli accordi, in quel caso col Giappone, per delle tournee, eccetera. Quindi voglio dire il ruolo di un conservatorio è anche quello probabilmente di consolidare determinati rapporti se non addirittura di favorirli e di far nascerne di altri. Io penso di sì, anche perché alla fine della fiera, sembra una banalità, però c'è del vero in questo, la musica è, potremmo dire, indifferente alla politica e quindi consente di scaldare gli animi, di trovare delle convergenze e poi può anche essere quel volano che dice ma guarda, tutto sommato ci si può convivere, possiamo farcela. Soprattutto quando veicolarla per certi aspetti sono anche i giovani. Esatto. E questo è sicuramente un bene. Poi c'è molto interesse, sicuramente della Cina nei nostri confronti. Tanto è vero che, ecco, stiamo studiando, metteremo in cantiere, un sistema più strutturato per veicolare gli studenti cinesi nel nostro conservatorio. Faremo delle convenzioni con delle scuole che garantiscano una istruzione di base della lingua italiana che altrimenti è impossibile la comunicazione e che in qualche modo creino anche un percorso di accesso al nostro conservatorio, senza garantire ovviamente l'accesso perché questo deve essere passato a un esame. però, ecco, che sia uno step di preparazione per un impatto soft agli nostri studi. Questo penso verrà messo in cantiere nell'anno entrante. Ma questo è anche un'ottima cosa perché verrebbe incontro anche effettivamente... Beh, sì, vorremmo appunto implementare... D'altra parte, ecco, siamo in un periodo storico dove può succedere qualunque cosa a livello normativo. Ah, ho capito. E allora è bene attrezzarsi, rafforzare il conservatorio, i suoi legami internazionali, possibilmente creare anche, come dire, un percorso virtuoso a livello normativo, cioè dare dei suggerimenti noi al Ministero per rafforzare la nostra struttura. Ecco, in questo momento noi ci presentiamo forti per le nostre relazioni e vogliamo puntare sulla nostra specificità. Avete già avuto qualche incontro a livello ministeriale? Adesso è ancora presto perché il governo si è appena insediato, però confido che entro la fine dell'anno relazioneremo su tutto quanto abbiamo fatto in forma scritta ma anche poi verbale con il Ministro. Poi andate di nuovo a Pordenone. Torneremo a Pordenone, sì. E questa è una cosa veramente che fa onore ai nostri studenti, i quali hanno... partecipano a un'altra appunto rassegna pordenonese del Festival del Cinema Muto. in particolar modo hanno creato una partitura originale per musicare il film La Memoria dell'altro, un film del 1913, da cui protagonista è Lida Borelli, che è una celebre attrice del Cinema Muto. Lida Borelli e Francesca Bertini erano l'olobrigida Loren del Cinema Muto. Donna molto... all'avanguardia, diciamo, tanto è vero anche che il film è molto drammatico, una storia d'amore incrociata, diciamo, d'amore di tradimento. E Lida Borelli, poi ricordiamo, fu la madre di Giorgio Cini, noto imprenditore, da cui poi... ...fui titolata la fondazione. La fondazione, sì. La fondazione Giorgio Cini di Venezia, che peraltro gli fu intitolata dal padre che Giorgio salvò dal lager nazista, dove era internato. Non sapevo. E il padre Grato, perché Giorgio morì prematuramente per il 49 per l'incidente aereo. Mi pare a Cannes, perché poi lui rimase legato al mondo dell'arte, eccetera. E quindi abbiamo i nostri studenti che hanno musicato questo film muto. È una partitura originale, quindi anche un'attività di produzione, diciamo. Poi, passando al mese... Questo dovrebbe essere nella prima settimana di ottobre. La data è ancora da definire perché ancora il calendario non è stato... Di solito loro sono in quel periodo. Sì, prima di ottobre. Poi abbiamo... Dico la data esatta perché ci terrei, insomma. Ecco, il 26 di ottobre. E qui è un evento che ci sta particolarmente a cuore, sul quale stiamo lavorando in sinergia con il Ministero di Istruzione da parecchio tempo. Quindi abbiamo avuto una collaborazione plurima. Tanto un grazie alla nostra prefettura che ci ha dato la massima collaborazione al Teatro Verdi che ci mette a disposizione appunto il suo teatro e avremo un coinvolgimento di tutti i corpi consolari e di varie autorità perché ci sarà l'esordio dell'orchestra Seaman, ricordo quell'acronimo Central European Music Academies Network, che ebbe in Natali proprio nell'ottobre del 2016 qui a Trieste dove siamo in capofila. Sostanzialmente nell'ambito di questo network di cui noi appunto siamo i leader abbiamo dato vita a una orchestra accademica. Questa orchestra quindi è composta dai migliori studenti dell'area balcanica e dell'area centro-europea e verrà anche implementata da altri studenti pur provenienti da conservatori non Seaman ma comunque aderenti ai paesi che hanno partecipato al primo conflitto mondiale. E in quella serata alle 18.30 presso il Teatro Verdi ci sarà questo concerto che peraltro sarà preceduto dalla lettura da parte dei giovani dell'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica delle lettere dei loro coetanei al tempo della guerra. E questo appunto nell'ambito delle celebrazioni della fine del primo conflitto mondiale. Sarà un evento importante per mille implicazioni e di respiro internazionale perché in realtà a Trieste abbiamo questo concerto però è una replica perché l'esordio vero e proprio sarà a Zagabria. Zagabria che attualmente ha la presidenza dell'iniziativa centro-europea altra istituzione partner per questo evento. Poi ci sono due appuntamenti importanti a novembre. A novembre il 20 di novembre sempre questa volta al Teatro Rossetti alle 18.30 come l'anno scorso avremo l'inaugurazione dell'anno accademico e ci saranno delle sorprese stiamo lavorando per avere anche qualche rappresentante delle istituzioni internazionali in particolar modo ci farebbe piacere avere il presidente della Manhattan School of Music con il quale abbiamo ottimi rapporti abbiamo avuto anche degli eventi con l'Ola low latency sistema di bassa frequenza in modo che ci consente di non solo dialogare con ottimi risultati ma anche di suonare di avere performance a distanza una cosa che abbiamo più volte consolidato tant'è vero che avremo se non vado un convegno internazionale dedicato a questo al tema dell'apprendimento a distanza e in questo caso avremo paesi diversi dall'area Siman avremo Atene Rostock Odessa quindi altri collegamenti internazionali che ci consentirà quindi un ulteriore scambio di esperienze e anche di attività insomma devo dire spero non me ne abbia direttore se ho dimenticato qualcosa concludo che con il 22 di novembre dove all'ambasciata italiana a Lubiana nell'ambito di un concerto rossignano ci sarà la partecipazione di un quartetto di fiati del nostro conservatorio quindi sei un qualcosa di molto ricco tutti i professori sono molto impegnati ciascuno nel proprio è questo solo in periodo diciamo così iniziale poi dopo ci saranno i vari concetti tradizionali le altre cose no no poi stiamo lavorando ecco per avere nella primavera del 2019 un'edizione un incontro quindi di GML cioè della Global Music Education League qui a Trieste quindi con i 40 conservatori del mondo per per attirare un po' l'attenzione anche sulla nostra area consentire ai paesi dell'area balcanica di cui noi siamo capofila anche di di attingere a questo questo mi è parto di aver capito è un eufemismo però che una delle come si potrebbe dire delle un leitmotiv ecco di questa prima parte della vostra della vostra programmazione è proprio la collaborazione cioè la collaborazione con realtà come per esempio il Teatro Verdi e il Teatro Rossetti la collaborazione con manifestazioni come Pordino Nelegge e come le giornate del Cinema Muto ancorché poi con altre realtà di livello internazionale eccetera per arrivare a queste a queste forme di collaborazione c'è bisogna che una realtà come il Tartini sia conosciuta e bisogna anche che di una realtà come il Tartini le altre parti a livello più o meno usiamo un termine così si fidino cioè abbiano fiducia eccetera come si come si costruisce questa fiducia come si come dire come si nutre e come si mantiene poi questa fiducia beh io credo che sia la qualità la qualità dell'insegnamento l'affidabilità dell'istituzione in sé perché va dato atto che gli impegni che vengono presi vengono sempre portati a termine tra l'altro anche con anche con risparmi diciamo di bilancio lo stesso ministero in effetti ci dà ecco notevoli notevoli finanziamenti direi anche non vorrei poi essere smentito dalla storia o magari essere sentito da qualche autorità di governo diciamo ti taglio i fondi però il problema potrei dire che dei tartini non sono i fondi i fondi li abbiamo siamo in grado di spenderli ma il problema è la struttura amministrativa oggi che al di là della buona volontà di tutto il personale è risicata ora è vero uno potrebbe dirmi ma tutte le pubbliche amministrazioni dicono siamo pochi questo è vero ma dove saranno i diventi pubblici però ecco nel caso di specie tenendo presente posso dire che effettivamente la struttura diciamo lavora molto però ecco non può permettersi soluzioni di continuità abbiamo avuto dei casi ovviamente come tutti come avviene insomma di malattie eccetera ci siamo trovati in gravi difficoltà perché abbiamo un centinaio di studenti stranieri 600 orientativamente italiani 600 talvolta di più fino a 700 ecco poi i docenti un centinaio ma poi queste diciamo attività di collegamento internazionale sono qualcosa diciamo che si aggiunge all'ordinario per poterli gestire in modo direi corretto ma anche significativo nel senso che inviti la delegazione cinese devi dare anche un'immagine del conservatorio perfetta non devono esserci imprecisioni c'è anche un protocollo potremmo dire diplomatico da seguire in certi casi anche perché il rischio di commettere delle gaffe è importante qui c'è tutta un'attività di contorno che sta diventando rilevante d'altra parte però un conservatorio che si chiude in se stesso che si limita esclusivamente a impartire eppure difficili lezioni tradizionali oggi verrebbe meno a quello che è il suo compito perché questo giovane che accede agli studi musicali sì una parte transiterà auspicabilmente nelle orchestre che non sono molte però dobbiamo garantire a tutti la possibilità ci sono dei campi per esempio la trasmissione radiofonica a cui facevo il cenno consente agli studenti di apprendere tecniche di come si gestisce la trasmissione di come si lavora il materiale grezzo ecco c'è tutto un qualcosa del settore musicale che spazia dalla ricerca fino anche all'attività di produzione di produzione sì 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 è tutto ed è anche vero questo quando quando si va noi logicamente entriamo entriamo al tartini per fare delle interviste o comunque per ed è una una sensazione bellissima perché a parte vedere i ragazzi che vanno con il proprio strumento eccetera ma hai l'idea che sia una realtà molto molto viva molto viva devo dire la verità si respira una buona aria un'aria di ricerca un'aria di grande entusiasmo e questo devo dire è una gratificazione che sento nel momento in cui opero per il conservatorio la sede anche ma con la sede lentamente ma non abbiamo dimenticato i nostri impegni dovremmo finalmente essere riusciti a cantierare una parte dei lavori che ce l'avevamo programmati che consistono nella climatizzazione del piano di sopra perché finalmente siamo riusciti a stipulare la convenzione con il genio civile che ci farà da stazione appaltante perché noi appunto per legge non potremmo assumere lavori perché c'è stata anche questa modifica ordinamentale che poi il legislatore fa presto a dire un ente non esiste più però le funzioni dopo vanno trasferite e purtroppo chi c'è dentro sa quanto tempo ci vuole per far assumere una funzione dall'ente soppresso all'ente che dovrebbe non voglio neanche immaginarla però abbiamo trovato questa soluzione grazie all'ingegnere Lillini che ha prestato la sua collaborazione e quindi abbiamo stipulato la convenzione e finalmente insomma sono convinto che partiranno i lavori ecco questo è già positivo poi certo sarebbe ancora altro da fare ma lì insomma come diceva Bette Davis in un film accontentiamoci della luna no non chiediamo la luna accontentiamoci delle stelle pian piano alla volta intanto siamo partiti con questo poi c'è il progetto che non ho dimenticato sul quale continuiamo a fare pressing per la biblioteca musicale da trasferire nel piano di sopra devo dire ci sono delle opere pregevolissime credo che sia probabilmente la biblioteca musicale più importante non voglio dire del nord-est ma insomma sicuramente poco via come si dice comunque sì c'è anche un'opera autografata di Mahler quindi per chi vuole vederla sarà contento sarà contento questo benedetto amico mio con cui un mio compagno di classe con cui vado al cinema stasera che ho già citato precedentemente è impazzito per Mahler ma non è non è il solo invece io su questo un po' di arrivo dopo Presidente grazie davvero grazie a voi che siete sempre molto cortesi buon lavoro noi ogni tanto ci vediamo se non con lei con qualcun altro del Tartini perché insomma fa molto piacere quando si parla di una realtà come tante fra l'altro della città che portano che portano bene appunto il nome di Trieste in giro per tutto il mondo l'Avvocato Lorenzo Capaldo è appunto il Presidente del Conservatorio Tartini grazie ancora per essere stato con noi dopo la pubblicità c'è Studio Telequattro continuiamo a parlare a parlare di musica grazie a tutti grazie a tutti